E' morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale a Pisa, un bimbo di due mesi giunto al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo cullava per farlo addormentare. L'episodio è avvenuto sabato sera, il neonato è morto domenica mattina dopo una notte trascorsa in neonatologia. La notizia in tutta la sua drammaticità arriva dritta a Vallo della Lucania, la mamma del piccolo è infatti una giovane di Vallo che da qualche anno vive il lavoro a Pisa. Poche settimane fa la donna aveva messo al mondo i suoi due gemellini per uno dei due un'otroce destino. La notizia ha sconvolto la comunità vallese dove la donna è conosciuta da tutti. Il papà, un medico pisano in servizio ad Empoli, ha riferito ai colleghi del pronto soccorso di Pisa che il bambino gli è scivolato dalle braccia, battendo poi la testa sul pavimento mentre lo stava cullando per farlo addormentare, mentre il fratello gemello dormiva nella culla. Nonostante il pianto addirotto del figlio il padre ha constatato subito l'assenza di lesioni esterne evidenti ma ha poi comunque preferito portare il piccolo in ospedale per accertamenti. Da qui il ricovero in osservazione nel reparto di neonatologia, poi l'improvviso peggioramento del quadro clinico fino alla morte. La cartella clinica è già stata acquisita dalla polizia giudiziaria, il genitorio accusato di omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti c'è anche la condotta dei sanitari che l'hanno soccorso.